Giustizia è un concetto politico fondamentale proprio perché bisogna passare, come si diceva anche prima, da una politica che aveva soprattutto di mira la sicurezza a una politica che abbia di mira una giustizia perché solo nella giustizia è che si creano i legami sociali, che si mantengono i legami tra le persone e il vero rischio che la nostra società oggi corre è quello di uno sfilacciamento complessivo dei legami sociali e quindi il fatto che diventiamo tanti individui singoli che non riescono più a stare assieme, questo è un vero rischio. In questo senso esperienze come la Winter School, esperienze come altri corpi intermedi che ci sono nel territorio possono essere dei laboratori per costruire una politica non migliore ma diversa. Io credo che siano i veri luoghi, poco visibili nel sistema mass mediatico, ma i veri luoghi in cui viene salvaguardata la democrazia, se la democrazia è fatta di partecipazione e se la democrazia esiste perché noi la facciamo esistere e quindi se troviamo dei luoghi in cui discutere, in cui interrogarci su che cosa vuol dire una buona vita assieme, su come organizzare la nostra vita con gli altri perché sia una buona vita. In questo senso esisterà la democrazia sinquanto esistono persone che hanno voglia di incontrarsi, di discutere e che la mantengono vita. Viva! Viva!